Amici di Legnano Web TV oggi per sport e inclusione facciamo tappa ad Arago e andiamo a vedere quello che è la danza quindi andiamo a vedere l'associazione Angeli sulle punte, abbiamo Eleonora Burgstahler dell'associazione Angeli sulle punte buongiorno a tutti quanti, ciao, il cognome è complicatissimo, l'abbiamo bypassato, racconticelo a cosa fa l'associazione Angeli sulle punte noi siamo un'associazione sportiva direttantistica basata sulla danza, tutto nasce dalla danza classica in quanto io sono un'insegnante diplomata al teatro alla scala e nonché ex allieva ballerina ma poi ho voluto ampliare a tutti gli stili di danza perché secondo me ognuno di noi ha un proprio ritmo nel cuore e quindi era giusto dare più possibilità a chi viene a trovarci di trovare la sua danza preferita e man mano siamo arrivati anche alla danza terapia quindi per ospitare persone diversamente abili, ragazzi speciali, adulti e bambini Il progetto Sport Inclusione ha dato la possibilità anche a una platea probabilmente maggiore e anche chi magari non si ha mai avvicinato alla danza di provare questo mondo, com'è stata la reazione? È stata bellissima, abbiamo una grande partecipazione da questi gruppi che si stanno anche ambientando, lasciando andare perché spesso la danza è vista un po' come una cosa difficile invece la danza terapia soprattutto è molto espressione corporea libera quindi loro sono invitati a lasciarsi andare e sono entusiasti io vedo che il progetto anche coi balli di gruppo sta prendendo veramente una piega allegra, divertente e di grande soddisfazione e il bello è che riusciamo a far ballare anche i ragazzi sulle sedie a rotelle e quindi c'è proprio coinvolgimento a 360 gradi Sì, inclusione a questo punto veramente a 360 gradi Ti chiedo invece per la tua associazione, Angeli sulle punte, se hai un riferimento, un sito web, dei contatti? Sì certo, noi ci siamo come www.angelisulepunte.net poi io sono presente sui social Instagram o comunque Facebook, pagina personale Eleonora Burgstahler oppure Angeli sulle punte come pagina e ci trovate come scuole danza e centro fitness perché facciamo anche corsi fitness Perfetto, allora a questo punto io ringrazio ancora Eleonora per averci ospitati oggi ti faccio complimenti per l'attività che fate facciamo un complimenti anche a Cittadinanza Attiva per il progetto Sport e Inclusione diamo un punto di domanda per una prossima volta sempre con questo progetto Assolutamente, perché Cittadinanza Attiva ha avuto un'idea splendida e spero che sempre più persone ampliano i loro orizzonti perché bisogna riuscire a includere queste persone in ambienti normali non tenerli segregati nelle loro comunità perché come qua da vedere, quando vedrete video vedrete questi ragazzi vivere la vita normale eccessionalmente quindi invitiamo tutti a scoprire questo mondo e chissà mai che magari troviamo un qualche nuovo ballerino non si sa mai, un bolle della situazione grazie, ci vediamo nei prossimi appuntamenti, ciao a tutti